E queste sono 5 creature alline riprese da una videocamera parte 2 Comunque anche in questo video avrete la possibilità di vincere una fantastica Amazon Card da 100€ Per vincere dovete lasciare un like e condividere questo video Iscrivervi al canale e commentare con partecipo In ogni caso tutte le regole in descrizione Inoltre una volta arrivati ai 150.000 iscritti avverrò un contest per vincere un incredibile iPhone 7 rosso Adesso direi di incominciare subito con il video In questo video registrato da un ragazzo viene ripresa una strana creatura Che per alcuni si tratterebbe di un vero e proprio alieno Sinceramente non so se si tratti davvero di un extraterrestre Però zoomando l'inquadratura sembra davvero essere una creatura aliena Infatti basta notare la sua corporatura scheletrica che non sembra per nulla essere umana In questo video davvero molto inquietante che ho trovato sul web troviamo un presunto alieno ripreso Pensate che questo piccolo filmato ha creato varie polemiche Infatti molte persone sostengono che il video sia vero Anche se io in realtà credo che si tratti di un'animazione quindi di un falso Ma comunque in ogni caso la clip rimane davvero interessante In terza posizione invece si può intravedere un presunto alieno ripreso fuori una finestra Sinceramente anche in questo caso non so se si tratta di un falso Ma la clip rimane in ogni caso molto interessante In questo filmato troviamo una creatura abbastanza strana ripresa in una fogna in Inghilterra Comunque alcuni credono che questa creatura sia in realtà un alieno Colui che ha registrato questo video ha successivamente dichiarato di non aver mai visto nella sua vita una creatura del genere In prima posizione troviamo un video registrato in Brasile da un turista inglese E successivamente questo filmato fu diffuso anche dal quotidiano britannico The Sun Comunque come possiamo ben vedere da queste immagini Durante la registrazione viene ripreso un presunto alieno vicino ad un albero Davvero assurdo Come and get it No